Domenica 2 aprile si è tenuta a Varano Marchesi Varano in Fiore, una mostra a mercato di fiori, piante, arredamenti e attrezzature per i giardini. La mostra ha avuto luogo all'interno del centro civico ed è iniziata alle 10, protraendosi per buona parte della giornata. Siamo arrivati oramai alla quinta edizione di un appuntamento primaverile, che si tiene la prima domenica d'aprile e che ogni anno riscuote maggiori successi. Anche quest'anno, come gli anni precedenti, la gente che è arrivata nella bella frazione di Medesano è aumentata di in numero, nonostante il meteo, non promettesse nulla di buono. Come consuetudine, dal suo inizio, la diretta di Radio Marvisi ha accompagnato la manifestazione. L'evento, organizzato dalla Proloco di Varano Marchesi, ha visto la presenza di bancarelle di fiori e prodotti tipici, bancarelle di associazioni di volontariato, come quella della scuola di infanzia di Varano Marchesi, della parrocchia di Noi per Loro, bancarelle di oggettistica e alcuni stand con animali, particolarmente apprezzati quelli di cuccioli di cane come Samoiedo, pastore tedesco e golden retriever. Gian Paolo Cantoni ha agliettato la pausa pranzo con le sue parzallette. Per l'occasione è stato possibile anche visitare il museo della Canapa, che si trova all'interno del centro civico. La terza struttura presente nel centro civico, costruita diversi anni fa, è stata al riparo di tanti visitatori che attorno alle 16.30 sono stati colti di sorpresa da un breve acquazzone. Passato l'acquazzone, tutti di nuovo per le vie del paese. Per tutto il giorno sono stati impegnati decine di volontari di Varano Marchesi, che hanno anche dato vita a un ottimo servizio ristoro. Amministrazione comunale ed Ascom erano al fianco degli organizzatori per realizzare l'iniziativa.